Ups a tutti i cari Upsini e Upsine come state? Come ancora state? Oggi sono qui solo per voi per fare un video molto speciale un video che non ho mai fatto infatti sono super emozionato perché come avrete letto dal titolo ho qua con me una mystery box piena di trigger che mi ha voluto regalare una mia cugina che mi ha sempre supportato con il canale che adora l'ASMR e quindi mi ha dato questa scatola e mi ha detto facci un video io quindi non l'ho ancora mai aperta e mi ha detto che ci sono un po' di trigger quindi oggi li scopriremo quindi devo anche un po' sbrigarmi perché sennò questo video durerà un sacco ma mi raccomando indossate un paio di cuffie o auricolari stendetevi sul vostro letto e provate a chiudere gli occhi se volete allora se mi vedete un po' rosso magari in faccia non sono proprio rosso in realtà ma possiamo dire che ho iniziato a lavorare come animatore al centro estivo e quindi sono in piscina sotto il sole tutto il giorno ma questa è la scatola spero la vediate è molto grande quindi non ci starà tutta nell'inquadratura perciò pronti ad aprirla ora vado ok appoggio via il coperchio ci sono un sacco di cose ma adesso le prenderemo una a una allora partiamo da questi queste palline tipo svaroschi che secondo me sarebbero fighe o da mettere sui polpastrelli oppure da fare dello scratching tipo potrebbe starci ma ma intravedo di veri e propri tipo svaroschi ce ne sono un bel po' dentro qua ci sarà un video dove faccio del tapping con questi sulle dita di veri e di veri e di veri e di veri e Ok, allora, sto cercando di procedere piano piano. E quindi queste prime due cose erano qua nell'angolo, le abbiamo viste. Ci sono un sacco di scatole, allora a fianco a queste cose di plastica c'è, no? C'è questa scatola che è la più piccola da tutte. Vediamo cos'è. Oddio. Sembra un piccolo carrion. Ora proviamo a girarlo, non so quanto possa essere forte. Un pochino. È un po' tanto forte. Non so, devo capire meglio come usarlo. Comunque dovrebbe cantare. La canzone qua dice Twinkle, twinkle little star. È molto carino però. Va un tapping stupendo qua sopra. Ora vabbè, non ho le unie. È bellino. Devo solo capire come usarlo meglio. Comunque se dentro è così. Ok, rimettiamolo nella scatola. Ok. Ok. Siete pronti per andare avanti? Per andare avanti? Ci siete? Allora io se devo contare vi do ancora qua cinque cose che però sono alcune molto grandi. quindi tipo cos'è questo? Allora c'è scritto ASMR Recorder Cube e qua c'è scritto ASMR Experience. Quindi sembra tipo un cubo fatto apposta per l'ASMR. Molto figa come cosa. Apriamolo, vediamo un po'. Sto facendo un casino assurdo Ok si, un cubo Oddio questo no Questo fa un sacco rumore E' molto bella questa parte Questa E' una bella idea Secondo me è una bella idea Anche questo va capito meglio come usarlo Ci sta, è carino Ditemi voi cosa ne pensate Secondo me ci sta Adesso lo appoggio un attimo qua Perché non voglio fare casino di nuovo per posarlo Andiamo avanti Galaxy slime Vediamo un po' Ah ma che carino Ci sono tre di queste uova Adesso magari ne apriamo una Solo che non ho preso taglierini o robe simili Quindi ci dobbiamo un attimino arrangiare Ok l'ho aperto Ma c'è uscito dentro del liquido E mi stavo allagando tutto Quindi per adesso farò così Questi li Proverò a utilizzare meglio E a vedere se sono tutti così Perché se no devo capire come usarli Cioè vedete Cioè vedete Più che altro sentite Perché non è che vedete Solo che mi sto bagnando tutto Quindi Mi ha bagnato un po' Ovunque Ma noi andiamo avanti Abbiamo ancora tre cose Vedo E sono le più grandi Proviamo con questa Che è un'altra scatola Vediamo se riuscite a vedere Prima voi Oddio 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 Ci sono tre di questi Bruchetti tipo Abbiamo ancora prima Questa è un'altra scatola Bu verdade ho Questi qua ma sono bellissimi Adoro, stupendi, li useremo Ok, devo muovermi No vabbè, no vabbè, no vabbè La cosa più bella in assoluto Ce stiamo capendo Fammi vedere Oddio Ragazzi Stiamo capendo le ampolline Stupende Per adesso la mia cosa per verità C'è io Adoro E infine c'è ancora Una cosa che è la più grande di tutte Un'altra candela della Woodwick O Woodwick Non mi ricordo Molto buono È di tre colori Viola, azzurro e bianco Di quest'anno che ci farò un video Magari con entrambe Non sto adesso ad accenderla Anche perché siamo qua Insieme da Un po' Quindi Questo Era Tutto Quello che c'era In questa mystery box Io Ho adorato Ringrazio un sacco mia cucina Per avermela fatta Io Non ne sapevo Nulla E Ci farò Un sacco di video Ma adesso devo dire Cucu Cucu Ora tocca a voi Iscriviti al canale Se sei nuovo Per entrare a far parte Della Ops Community Diventare Un Opsino Se sei un maschietto Oppure Un Opsino Se sei una femminuccia Poi Lascia un like Un bel commento Se hai un attimo Di tempo E Il video di oggi Finisce qua Ma se tu Vuoi stare ancora Insieme a me Io ti lascio Di qua Il mio video Precedente Di qua Una mia playlist E qua Il tasto Per andare sul mio canale E vedere Un po' Tutto quello che vuoi Sia video Che shorts Io allora ti mando Un grande bacio E buonanotte 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 Buona notte